Consigliere Pettinari, questa mattina arriva una denuncia che riguarda l'ospedale di Pescara, la presenza di due acceleratori lineari nel reparto di radioterapia oncologica, due macchinari di cui uno vetusto che andrebbe assolutamente sostituito, l'altro all'avanguardia e è pienamente funzionante. L'assurdo è che il Presidente Alfonso e l'Assessore Paolucci hanno sbandierato i quattro vendi che erano pronti il finanziamento ministeriale. Ci sono i soldi, 6 milioni di euro per l'ammodernamento delle radioterapie abruzzesi, di cui 2 milioni di euro dovrebbero essere destinati all'Asia di Pescara, nonostante ciò non procedono all'appalto per la sostituzione del vecchio macchinario. Inoltre bisogna dire che il nuovo macchinario a tecnologie all'avanguardia è molto meno impattante sugli organi a rischio. E mi fermo qui. Oltre a questo la cosa che fa veramente rabbia è che mentre acquistavano il secondo acceleratore lineare si depotenziava e declassava la radioterapia oncologica di Pescara da UOC a UOSD, da unità operativa complessa a unità operativa semplice dipartimentare, perdendo il primario, perdendo un centro di costo importante. Non solo, diminuivano del 15% l'organico e il personale. Quindi aumenti di un'apparecchiatura, declassi la struttura e diminuisci il personale. Questo è veramente assurdo e allucinante. C'è una brachiterapia che è stata donata dagli canadesi all'ospedale di Pescara per trattare i tumori ginecologici. È arrivata, non è stata mai messa in funzione, forse nascosta in qualche sotterraneo. Vorremmo anche che si attivasse immediatamente questa apparecchiatura per non sperperare soldi pubblici. E quindi chiediamo al presidente Alfonso, all'assessore Paolucci, di sostituire immediatamente l'apparato vecchio, obsoleto di radioterapia soprattutto a salvaguardia degli utenti oncologici perché questo meritano gli utenti.